Sarò molto rapido perché la relazione di Dario, come sempre, ma oggi in qualche modo persino più delle altre volte, è stata forte, chiara, netta e ci consente di essere sintetici, solo ribadendo alcune delle cose già ascoltate. Io dico che nella relazione di Dario vedo delle rivendicazioni che dobbiamo avere e fare tutte insieme, sono tre, e dei motivi di orgoglio e su questa piccola linea che tenga unite i tre pensieri che provo a sviluppare parlerò. Prima rivendicazione, uscire da un equivoco, l'aveva già detto in una buona intervista alla stampa, non stiamo al governo per comodità, per sete di potere o per l'assolutamente legittima ambizione di un uomo politico. Stiamo al governo davvero perché stiamo facendo un servizio al Paese, un servizio difficile, complicato. Ricordo che quando chiesi a Dario del perché della scelta della delega ai rapporti col Parlamento, lui ridendo mi rispose E certo, ho preso la delega alle rogne, sono il ministro delle rogne, ed è così. Lui tra gli altri fa il lavoro più duro, tenere insieme due partiti complicati, lavorare in Parlamento, tenere insieme i ministri del governo, quelli del nostro partito e quelli degli altri partiti. La maggioranza degli italiani in queste ore, non quelli che come me stanno sui social network, lo uso molto, ma poi ogni tanto leggo che il 5% della popolazione italiana utilizza i social network, una ristretta minoranza, sia pure una minoranza colta. Allora se ci facciamo l'idea che quello che pensa l'italiano medio, sia quello che leggiamo, e c'è questa critica costante e continua al PD che sta al governo con Berlusconi, compiamo un errore enorme. L'italiano medio, quello che in questi momenti ha altre preoccupazioni, che non siano quelle di scrivere un messaggino su Twitter, pensa a come arrivare a fine mese e pensa che una crisi economica, una crisi di governo, alle soglie del varo della legge di stabilità, e che ci porti di nuovo ad elezioni con questa legge elettorale che non farebbe altro che ripercuotere la situazione attuale, sarebbe lesiva e dannosissima per il nostro Paese. E' a noi agli italiani che la pensano così, dobbiamo parlare nelle prossime ore facendo esattamente come è stato detto un atto di forza e di chiarezza che mostri chi vuole continuare a lavorare per il bene degli italiani e chi invece decide di mandare tutta l'aria per il bene neanche tanto concretizzabile, perché a me sembra una partita comunque persa, del proprio leader Berlusconi. Seconda rivendicazione, rivendicare le cose buone fatte dal governo. In questo io devo dire che ho trovato timidissima la leadership, peraltro timidissima se ce la vogliamo dire in tutto, la leadership di Epifani in questi mesi è stata timidissima, timoroso ogni volta di dire una parola in più a favore del governo pensando che questo determinasse qualche appannamento dell'immagine, perché certamente c'erano quelli e ci sono quelli che si sporcano le mani a governare insieme alla destra, al centrodestra e quelli che invece dal di fuori danno giudizi timidi, esitanti, non di totale afflato con chi invece quel lavoro duro lo fa. Abbiamo fatto dei provvedimenti importantissimi in Senato, qui saluto il mio capogruppo Zanda, abbiamo fatto tante cose buone, Dario le ha citate tutte, io voglio aggiungere mettendoci un accento in più quella della stabilizzazione dell'eco bonus, ci avevamo lavorato tantissimo anche nelle legislature precedenti senza mai riuscirci, ad ogni legge riuscivamo ad ottenere soltanto la proroga di qualche mese, questa volta l'abbiamo stabilizzata con effetti positivi su ambiente, professioni, lavoro e naturalmente valore delle abitazioni, perché chiunque ristruttura la propria abitazione con l'aiuto dello Stato riceve anche un incremento di valore dell'abitazione stessa. E poi è stato detto, gli esodati, la Cassa Integrazione, i debiti della Repubblica Amministrazione, il decreto del fare, ma io rivendicherei, e questo mi piace attribuirlo alle capacità di Enrico Letta, alla sua cultura, al suo spessore, il recupero della credibilità internazionale, che da solo vale tantissimo. Siamo stati e siamo orgogliosi quando vediamo Enrico Letta al cospetto dei grandi del mondo parlare con loro alla pari, con uguale capacità, dopo essere stati umiliati dalla Presidenza del Consiglio Berlusconi su tutta la scena internazionale. E proprio questo recupero forte di credibilità rende ancora più inaccettabile la scelta dei tempi con i quali, con totale veramente spregiudicatezza e mancanza di senso dello Stato e delle istituzioni, Berlusconi ha deciso quella pantomima, peraltro anche un po' farsesca e ridicola, delle dimissioni date in bianco da parte dei parlamentari. Terza rivendicazione, e chiudo, è la rivendicazione della scelta di appoggiare Matteo Renzi. Dirò anche qualche perplessità al riguardo, e però partiamo dalla rivendicazione forte. Non stiamo con Renzi per caso e non stiamo con Renzi per comodità o per interesse o per opportunismo. Se leggiamo la cifra dell'impegno nostro, veramente cresciuto attraverso questi sei convegni di Cortona, nel partito, è una cifra chiaramente sovrapponibile alla candidatura di Renzi e non a quella di Cuperlo. Ma nel 2007, quando eravamo in ticket Dario Conveltroni, e nel 2009, quando il nostro sfidante era Bersani, la nostra visione del partito era o non era simile a quella di Renzi e molto, molto differente da quella di Bersani. Molto differente. Non avevamo un'idea, la vocazione maggioritaria, un'idea espansiva del partito, un'idea ampia, libera, aperta. Bersani ci spiegava come riorganizzare la sinistra. Non ho timore a dire che la segreteria di Bersani è stata angusta, guardato solo ad una parte della società italiana, portandoci in una ridotta, il cui risultato finale è stato quello di perdere otto punti percentuali rispetto al risultato di Veltroni. Perché se parli solo ad una parte di società, è solo da essa che puoi aspettarti il consenso elettorale. Noi avevamo un'altra idea di partito e io ho sempre detto che se avessimo vinto il congresso del 2009 avremmo sicuramente vinto anche le elezioni del 2013 e oggi ci sarebbe una situazione diversa. Perdiamo le elezioni del 2013 esattamente per una serie di errori incasellati, messi uno dopo l'altro, ai quali, pur avendo collaborato lealmente con la segreteria Bersani, non siamo riusciti a porre freno. Qualche volta l'abbiamo attutiti, ma certamente non li abbiamo cancellati. E quel percorso non poteva che portarci al disastroso risultato. Perché io non vorrei che noi guardassimo alla stragrande maggioranza di deputati che abbiamo in Parlamento in virtù di quell'assurda legge che l'ha determinata come una grande vittoria. Noi abbiamo, nelle elezioni di febbraio, subito una sconfitta perché, come si dice, apprezzate le circostanze, non potevamo non vincere e aver non vinto è una responsabilità forte del nostro partito. Chiudo tre rivendicazioni, dicevo, perché siamo al Governo, perché il Governo ha fatto cose buone, perché siamo con Renzi. È un motivo di orgoglio, aggiunto ad una preoccupazione. A me non piace tutto di Renzi, come credo a voi non piaccia tutto di Renzi. Non mi piace l'approccio lideristico, non è la mia cultura politica. Non mi piace l'idea dell'uomo solo al comando. Non mi piace soprattutto l'abordata di critiche che egli ha indirizzato tra una battuta e un'altra a Enrico Letta, proprio mentre Enrico Letta fa questo lavoro faticosissimo al quale abbiamo fatto riferimento prima. Queste cose non mi piacciono. E però mi piace tutto il resto. Mi piace quella visione politica del partito e dell'Italia che trovo, come ho detto prima, sovrapponibile, molto sovrapponibile al lavoro che noi da sempre abbiamo fatto. E allora qual è il motivo di orgoglio? Sapere che l'area democratica ha la forza, l'intelligenza, le capacità, le idee e le giuste leadership per far sì che, come ha funzionato questa nostra mescolanza, il lavoro da fare con Renzi e la mescolanza che faremo con le persone vicine a lui potrà migliorarlo, attutirne questi aspetti che proprio non mi piacciono e costruire insieme una leadership forte che guardi al partito ma che guardi e sappia parlare soprattutto all'Italia.